Allora cominciamo subito perché poi il dottore Ingroia ha degli impegni. Allora io sono Riccardo Loverso, sono un giornalista del mensiless del quotidiano Live Sicilia.it. Questa mattina riflettevo, venendo qui a Villa Filippina, che sono stato questa mattina particolarmente fortunato. Prima perché è sempre un piacere, se non addirittura un privilegio, poter chiacchierare, poter parlare di mafia con Antonio Ingroia e poi perché tutto sommato io ho 39 anni, quindi se consideriamo anche gli anni universitari, sono stato studente fino a poco tempo fa e quindi forse sono, anzi certamente sono vicino al vostro modo di pensare, alle vostre esigenze di capire, insomma. E credo che l'esigenza fondamentale sia quella della semplicità, parlare di lotta alla mafia con parole semplici per arrivare dritti, diciamo, ai ragazzi. Perché la mafia soprattutto è un problema reale, cioè i mafiosi, la mafia è in mezzo a noi, è nelle persone che vivono accanto a noi, è negli atteggiamenti, è in tanti avvenimenti quotidiani. Allora, Antonio Ingroia è un magistrato, è un procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Per chi non è avvezzo, insomma, a queste strutture, diciamo che la DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia, è un pezzo della porcura di Palermo che si occupa di lotta alla mafia. Il procuratore aggiunto è un ruolo di vertice. È giusto per inquadrare, per chi tra di voi non conoscesse bene Antonio Ingroia, è il magistrato che ha coordinato le indagini, che so, per dire forse uno dei casi più eclatanti e più recenti, che ha coordinato la cattura dei boss Salvatore Sandolo Piccolo, è il magistrato che coordina una delicatissima inchiesta sulla trattativa fra la mafia e lo Stato ad un certo punto della nostra storia repubblicana. Secondo queste indagini la mafia e lo Stato iniziano a trattare, anche su questo tema ci soffermeremo. Da questa mia introduzione mi vengono in mente quattro spunti sostanzialmente. Mafia, politica, Stato e media. Perché dico media? E in questo cerco anche la vostra collaborazione. Quanti di voi, per alzata di mano, insomma, quanti di voi conoscono Antonio Ingroia? Vi faccio un'altra, un mini sondaggio. Quanti di voi conoscono Antonio Ingroia, non so, perché ne avete parlato a scuola, ad esempio? E quanti di voi, comincio ad essere un po' cattivo, conoscono Antonio Ingroia perché, non so, lo hanno visto in televisione, ad esempio? E insomma, allora vuol dire che ha funzionato. Poi vi spiegherò il perché, insomma, io non do naturalmente una connotazione negativa alla presenza in televisione di Antonio Ingroia. C'è qualcuno però che sostiene che ci vada troppo, che sia troppo presente, come dire, in manifestazioni pubbliche e in dibattiti televisivi. Allora, spieghiamo innanzitutto veramente in parole semplici che cos'è la mafia oggi a 1.200 ragazzi palermitani. Beh, la mafia oggi, innanzitutto buongiorno a tutti, scusate se sono arrivato un po' in ritardo e mi scuserete anche se andrò via un po' in anticipo, perché purtroppo devo tornare in ufficio. La mafia oggi è uguale a se stessa, sempre, dire, ma nel contempo è diversa negli ultimi decenni. Che voglio dire, la mafia, come sapete voi che siete palermitani e siciliani, la mafia ha accompagnato purtroppo la storia della nostra città, della nostra regione, un po' di tutta l'Italia meridionale e l'ha accompagnata sul versante peggiore. Sapete certamente e conoscete certamente le storie dei tanti uomini e anche donne che sono stati uccisi dalla mafia. Quelli che sono rimasti più impressi nella conoscenza di tutti sono i grandi magistrati che sono stati i nostri, i miei in particolare, maestri Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che sono stati uccisi proprio vent'anni fa. Quest'anno si è celebrato il ventesimo anniversario, un momento di grande emozione per chi c'era, io c'ero, diciamo, più giovane di Loverso, ma vent'anni fa, un giovanissimo pubblico ministero appena arrivato alla procura di Palermo e ho vissuto proprio da vicino, potremmo dire in diretta, quei giorni terribili della strage di Capaci che sventrò l'autostrada di Palermo che collega con l'aeroporto, uccidendo Falcone con gli uomini della scorta, con la moglie e poi qualche settimana dopo quello che era stato il mio, che fu il mio maestro e anche il mio grande amico, cioè Paolo Borsellino, diciamo un po' fratello maggiore, visto che lui aveva vent'anni più di me, aveva l'età che ho io oggi, quando morì in via d'Amelio con quella terribile autobomba che trasformò quella strada in un teatro di guerra. Beh, sono passati vent'anni e come Falcone e Borsellino, prima di Falcone e Borsellino erano stati uccisi tanti altri uomini, uomini dello Stato, magistrati, carabinieri, poliziotti, ma anche giornalisti come Mauro De Mauro, Francese, Rostagno, ma anche giovani impegnati nella militanza antimafia come Peppino Impastato, alcuni di voi certamente conosceranno la storia di Peppino Impastato attraverso quel film, soprattutto, il film Fortunato, I cento passi che ha raccontato la storia appunto di Peppino Impastato. Beh, la mafia è questo, la mafia è stato sangue, violenza, schiavitù. La mafia ha ucciso il futuro di tante generazioni siciliane togliendo lavoro, togliendo occupazione, illudendo che fosse un sistema per dare lavoro e invece lo toglieva, illudendo che stesse dalla parte della gente contro uno Stato ostile, mentre invece era soltanto sfruttamento dei più deboli in favore dei più forti. In fondo la mafia è stato un sistema, un universo di violenza, ma non solo di violenza attraverso gli omicidi, le stragi contro chi si ribellava al sistema di potere, ma di violenza nel togliere futuro, nel togliere speranza, nel togliere lavoro, nel togliere progetto, nel togliere sviluppo e peraltro introducendo altri sistemi di morte, il traffico di droga, la droga, gli stupefacenti che sempre, nonostante la leggenda falsa che i mafiosi non volessero avere a che fare con la droga, è sempre stata invece il mercato della droga, sempre anche con la cosiddetta vecchia mafia, direttamente controllata dai mafiosi. Questa è stata la storia della mafia, una storia nera, una storia che ha pesato sul nostro passato. Il nostro passato è fatto anche di pagine positive, di speranze, di momenti di riscatto che sono stati a volte soffocati nel sangue. Tanti, tanti decenni fa, i movimenti dei contadini per la riforma agraria del dopoguerra, venne anche quella soffocata nel sangue, con tanti sindacalisti che vennero uccisi dalla mafia di quel tempo, che era dalla parte dei latifondisti agrari. E a quel tempo iniziarono i primi accordi, i patti, i patti della mafia con la politica. E quei patti della mafia con la politica hanno pesato e hanno strangolato anche la democrazia nella nostra isola. Non è un caso che tanti uomini politici di spicco siciliani arrivati ai vertici e alcuni presidenti della regione che si sono avvicendati, si sono poi trovati accusati, imputati, a volte condannati. Ce n'è uno attualmente ancora in carcere, l'ex presidente Cuffaro. Così come però c'è stata un'altra politica, un altro presidente della regione che invece è stato ucciso dalla mafia come il presidente Mattarella nel 1980. Una storia difficile, una storia pesante, una storia che voi dovete conoscere. Perché se non conoscete la storia della nostra terra, questa storia brutta, questa storia pesante, questa storia che purtroppo ci accompagna della regione per la quale quando andrete in giro per il mondo, quando sapranno che sono siciliani, vi faranno la solita battutina dicendo siciliani uguale mafiosi, uguale mafia. Ed è questo che ci portiamo dietro, ma anche una storia positiva, questa storia dell'antimafia, dei sindacalisti, dei giornalisti, degli imprenditori come Libero Grassi, ucciso nel 1991 perché si ribellò alla mafia dei magistrati e della regione per la quale io da magistrato quando vado in giro per il mondo non sono soltanto un siciliano, sono un magistrato siciliano e quindi non mi dicono sicilio uguale mafia, ma mi dicono magistratura siciliana uguale Falcone e Borsellino, uguale antimafia, il che dimostra che abbiamo avviato un percorso, un processo inverso di recupero di un orgoglio siciliano, perché siciliano non è solo siciliano uguale mafia, ma comincia a essere siciliano uguale antimafia. Io tra poco più di un mese assumerò un incarico all'estero molto lontano in America centrale, in Guatemala, perché nominato da un organismo delle Nazioni Unite che contrasta a livello internazionale le mafie di ogni nazionalità perché mafia ormai non è più uguale Sicilia, ma mafia è uguale mondo, ci sono tante mafie nel mondo, nell'America centrale, ci sono mafie altrettanto potenti, ancora più violente della mafia siciliana, ancora più capaci di corrompere la politica di quei governi e di quelle latitudini e dalla lontana Sicilia andrò in Guatemala perché le Nazioni Unite ritengono che il modello che noi abbiamo imparato, abbiamo anche divulgato nel mondo, il modello di azione giudiziaria antimafia, che è quello del pull di Falcone e Borsellino che poi è proseguito nella procura di Palermo, un modello a volte oggetto di critiche, di polemiche, di attacchi in Italia, in varie parti del mondo invece è considerato un modello virtuoso, un modello da imitare e per questo mi hanno chiamato perché vogliono imparare da me e da noi come si fa la lotta alla mafia e come si può vincere anche una lotta alla mafia perché noi la mafia non l'abbiamo ancora sconfitta, non prendiamoci in giro, la mafia ancora è forte, la mafia ancora è dentro la politica, la mafia è dentro l'economia, la mafia mantiene una capacità di relazionarsi con la società però certamente la mafia soprattutto qui, soprattutto a Palermo non è forte come era forte vent'anni fa, abbiamo ottenuto degli straordinari risultati, basta pensare che oggi non c'è una cupola mafiosa, basta pensare che oggi non c'è in libertà un capo dei capi con il riconoscimento, con l'autorevolezza criminale e col potere criminale che vent'anni fa aveva un uomo come Totò Riina, basti pensare che oggi gli imprenditori hanno acquisito un nuovo coraggio di ribellarsi alla mafia e mentre vent'anni fa avevamo Libero Grassi solo e perciò ucciso, oggi abbiamo tanti imprenditori che si schierano dalla parte dell'antimafia contro la mafia, denunciano gli estorsori e chi fa le estorsioni viene arrestato, processato, condannato e gli imprenditori hanno preso coraggio, essi sono costituiti in associazioni anti-racket e abbiamo una consapevolezza diffusa di quella che è la mafia molto più alta, diceva Borsellino vent'anni fa quando incontrava gli studenti, io guardando voi e vedendo voi mi rendo conto che voi sapete della mafia più di quanto non sapessi io quando avevo la vostra età e Borsellino da questo nutriva ottimismo, certo oggi Borsellino non c'è più e ne piangiamo sempre la scomparsa ma siamo certi, ne siamo convinti e ne sono convinto personalmente pur avendo avvertito in questi vent'anni doppiamente anche da amico e da allievo la scomparsa di Paolo Borsellino sono convinto che quel sacrificio, quei sacrifici non è stato per niente inutile e sono convinto di questo quando vedo voi, quando incontro voi studenti perché se gli studenti che incontrava vent'anni fa Paolo Borsellino, Paolo diceva saperne di più sulla mafia di quanto non ne sapesse lui da studente, io posso dire ancora di più la stessa cosa di voi, degli studenti di oggi rispetto a quando ero io studente trent'anni fa o rispetto a quegli studenti che Paolo Borsellino incontrava vent'anni fa. C'è un livello di consapevolezza che bisogna stare dalla parte dell'antimafia, c'è un impegno, una convinzione di tanti insegnanti, operatori dell'informazione, vent'anni fa iniziative e manifestazioni come queste non erano neanche concepibili, c'erano i momenti di emozione, di lutto, le tragedie, le stragi, quello era il momento in cui ci si incontrava, si sentiva la necessità di dare un segnale di presenza, oggi invece avviene in modo normale, periodico, qui ogni anno vengono organizzati incontri come questi e non c'è bisogno del morto, non c'è bisogno del lutto, non c'è bisogno della strage per riunire tanti giovani, tanti studenti e riuscire a catturare la loro attenzione, perché c'è, lo so, lo sento da parte vostra, la consapevolezza che bisogna stare dalla parte giusta, bisogna stare dalla parte della legalità, bisogna stare dalla parte delle regole, bisogna stare contro la mafia. E però, e questo è quello che costituisce la sfida del futuro, oggi la mafia è cambiata. La mafia non è più quella mafia tracotante, la mafia dei Corleonesi, la mafia di Riina, quella mafia sprezzante ed arrogante che uccideva e che riusciva ad avere consenso fondandosi soprattutto sull'ignoranza. Proprio perché quell'ignoranza in parte è stata colmata, proprio perché oggi sappiamo di più della mafia, proprio perché la mafia, soprattutto quella Corleonesi, ha davvero superato ogni limite e la gente ha capito da che parte stare, la mafia è cambiata nel frattempo perché la abilità, la capacità della mafia è questo, di sapersi adattare al mutare delle condizioni. E quindi la mafia oggi ha adottato un sistema diverso, meno stragi, meno omicidi, dare l'impressione, dare la sensazione quasi di non esserci, di essere sul viale del tramonto per farsi un po' dimenticare, per consentire che dall'altra parte si cali la tensione e l'attenzione e mettere al posto dei mafiosi rossi e sanguinari colletti bianchi, persone insospettabili, facce pulite, professionisti, architetti, ingegneri, medici, uomini di quella borghesia mafiosa che ha sempre fatto affari con la mafia ma che prima operava un po' più sullo sfondo, nel ruolo di consulenza e oggi invece sono entrati con ruoli operativi dentro la mafia, ruoli operativi che consentono però la mafia a tenere un profilo basso di violenza, la mafia quindi si dedica soprattutto agli affari, alla finanza. Allora qual è il rischio? Il rischio è che magari un po' che non si vede, un po' che si preferisce non vedere perché tanto questa mafia apparentemente è più inoffensiva, è meno pericolosa e ti consente di fare gli affari grazie alle sue entrature con la politica, dei gangli della pubblica amministrazione e così via e con il sistema anche della corruzione diffusa si è trovato un nuovo modo per convivere con la mafia, una convivenza con la mafia che è fondata sulla convenienza di stare con la mafia. Ecco allora la battaglia di oggi è più difficile, è una battaglia dove non serve più l'emozione per i lutti, non serve più lo scontro contro i killer, qui si tratta di cambiare le regole, bisogna sconfiggere la corruzione, c'è una corruzione diffusa in tutto il paese e questa corruzione diffusa in tutto il paese è l'altra faccia del potere della mafia. Mafia e corruzione devono essere sconfitte, combattute nello stesso modo perché sono due facce della stessa medaglia. Allora per contrastare la mafia e la corruzione mai, come in questa circostanza non c'è bisogno tanto soltanto di una magistratura efficiente e coraggiosa, c'è bisogno di una politica coraggiosa, di una politica che voglia fare Piazza Polita, ma la politica di questi tempi, lo sapete e lo vedete aprendo i giornali o guardando la tv ogni giorno, non è una politica da sola affidabile, non potete aspettarvi che la politica da sola possa fare questo passo in avanti. Ecco perché c'è bisogno di voi, c'è bisogno della parte più sana e più pulita della società, a cominciare dai ragazzi, dalle giovani generazioni. È quello che ho detto più volte, nelle platee più svariate, che continuerò a dire fin quando mi sarà consentito dirlo. Noi abbiamo bisogno che dalla parte migliore della società che voi rappresentate, che le giovani generazioni rappresentino, venga una spinta, una forte spinta dal basso per rinnovare questa classe dirigente. La classe dirigente è responsabile dell'impunità della mafia fino ad oggi. La classe dirigente è responsabile di questo dilagare della corruzione. Di questo non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di forze fresche, di una nuova classe dirigente che sarete voi, una nuova classe dirigente che non ripeta gli stessi errori di quella vecchia classe dirigente che ha finito per chiudere gli occhi, turarsi il naso ed entrare in relazione anche con le mafie, anche con i poteri criminali, con le cricchie, con le caste e così via. Di questo abbiamo bisogno e questo dovete rendervi conto non può e non deve essere un interesse nostro, tanto meno dei magistrati, ma un interesse vostro. Perché il futuro è vostro, il futuro è nelle vostre mani, dipende da voi, dalla vostra capacità di interessarvi a quello che vi succede intorno e di partecipare per incidere nella realtà un futuro migliore del passato di questa nostra terra, di questo nostro paese, che è stato un passato anche glorioso, ma è stato anche un passato spesso infame. Perché il vostro futuro sia migliore del passato dipende molto dalla vostra capacità di impegnare, di partecipare e di incidere nella realtà. Una curiosità prima di parlare di mafia e politica è il secondo spunto dei quattro, quindi chiedo anche ad Antonio Ingroia di aiutarmi a accelerare, ma soltanto perché lei ha un impegno. Una curiosità prima di parlare di mafia e politica. Perché in un momento in cui la lotta alla mafia è diventata, come lei stesso ammette, anche più difficile rispetto al passato, le dico questo perché è una curiosità che ho raccolto anche qui prima di iniziare questa chiacchierata, perché Antonio Ingroia a un certo punto deve decidere di andare in Guatemala, di non restare qui a Palermo per continuare il lavoro che egregiamente ha fatto in questi anni. Mi chiedo, è una scelta di vita, una scelta professionale rispettabilissima a questo punto, oppure c'è qualcosa dietro? Cioè in un momento in cui la magistratura forse si sente più impotente rispetto al passato e al contrastare la mafia, cioè è questo che la spinge insomma ad andare via, come dire sbatto la porta, ci vediamo dopo. Ma no, la verità non la metterei così. È vero che io credo che in alcuni momenti storici bisogna, e poi momenti storici e anche momenti personali, di percorso professionale, personale, bisogna anche sapere quando chiudere in modo non definitivo un capitolo della propria storia professionale per aprirne un altro, di fronte però a un'ipotesi che va considerato sempre come un arrivederci e non un addio. Io vado appunto in Guatemala per un impegno che è previsto della durata di un anno, potrebbe ulteriormente prorogarsi, ma insomma non è neanche detto, anche perché la stessa organizzazione delle Nazioni Unite dove vado ha una sua durata massima che dovrebbe essere il settembre dell'anno prossimo, quindi ancora meno di un anno, tranne che non venga prorogato. Quindi insomma vado per un'esperienza che è un'esperienza diversa da quella fatta qui, che è anche un'esperienza per portare fuori dai confini nazionali la nostra esperienza. Si porta quell'esperienza e poi si torna evidentemente in Italia. Paolo Borsellino ad esempio lasciando un po' sorpresi nell'86-87 non ricordo bene, decise di lasciare il pool antimafia a Palermo che stava ancora lavorando e continuò per alcuni anni e andò a fare il procuratore a Marsala. Fu un'esperienza diversa, un'esperienza però importante. Io sono da vent'anni, da vent'anni consecutivi ininterrotti, ero il più giovane PM della procura di Palermo quando arrivai, sono diventato il più anziano, almeno d'ufficio di questa procura. Da vent'anni ininterrottamente ho svolto le funzioni del pubblico ministero, ho fatto tanti processi che ho iniziato e portato sino in fondo. Da tre anni sono procuratore raggiunto con un ruolo di coordinatore di un pool impegnato certamente in indagini complesse, dopodiché avvertivo da un po' di tempo l'esigenza di un'esperienza internazionale. Mi è stata fatta questa offerta, ho chiesto tempo per poter prendere una decisione, ho detto di sì ma ho chiesto ancora tempo per poter completare le indagini più importanti, ho concluso le indagini più importanti, credo che sia venuto il momento per avviare questa iniziativa. Non c'è né senso di sconfitta né senso di vittoria. Io credo che il bilancio di questi vent'anni sia un bilancio complessivamente positivo. Personalmente ho portato in porto positivamente tutti o quasi tutti i processi che ho iniziato in fase di indagini, quasi tutti conclusi con condanne, tranne, mi rimane il cruccio per il quale depositeremo l'appello prima che vado via, l'assoluzione di Totorrina per l'omicidio di Mauro De Mauro, assoluzione che io ritengo sbagliata, ma insomma vedremo poi l'esito dell'appello dopo la nostra impugnazione e ritenevo che si potesse accettare questo momento. In più non nascondo che le vicende degli ultimi mesi che mi hanno visto al centro di attacchi inusitati, polemiche fortissime, tutte concentrate sulla mia persona, ma che in realtà avremmo come obiettivo alcune indagini alla Procura di Palermo, penso che possa il mio ufficio e le indagini stesse avere paradossalmente un beneficio dal mio temporaneo trasferimento, perché chi attacca strumentalmente Ingroia per attaccare le indagini e gli viene facile attaccare Ingroia non avrà più Ingroia da attaccare, quindi o getta la maschera e attacca la Procura di Palermo e quindi attacca le indagini e si capisce che Ingroia veniva attaccato per voler fermare le indagini oppure dovrà mollare la presa e a maggior ragione finiranno finalmente gli attacchi ingiustificati contro i magistrati di Palermo e le indagini potranno proseguire serenamente. A proposito di indagini, se volete fare un applauso potete farlo, non voglio essere io a stopparlo. A proposito di indagini dedicate e portate a termine da Ingroia nell'ultimo periodo, dopo anni e anni di indagini, chi conosce, sempre per alzata di mano tra di voi, la vicenda e la trattativa tra la mafia e lo Stato? Le mani sono un po' meno alzate rispetto a prima. Questa è colpa dell'informazione e quindi mi legherò anche al ruolo dei media. Ecco, vorrei che Antonio Ingroia spiegasse brevemente, in termini semplici, che cosa è successo nel nostro Paese ad un certo punto, per cui la mafia e i mafiosi e pezzi delle istituzioni, della politica, ma anche alte cariche dello Stato, a quanto emerge dalle indagini e dalle coordinate, si sono seduti allo stesso tavolino per discutere. Ecco, che cos'è la trattativa tra la mafia e lo Stato? Ai ai ai, allora, faccio una premessa doverosa, diciamo, per risparmiarmi dall'ennesimo eventuale procedimento di Cipriani nei miei confronti. La premessa è stata che sono istigato da quest'uomo, diciamo, non ho cercato, alcuni mi dicono che io cerco io di parlare di queste cose, quindi su domanda di Loverso rispondo, soprattutto per soddisfare appunto la giusta eventuale curiosità dei cittadini, in questo caso dei ragazzi. Questo processo inizierà con l'udienza preliminare il 29 ottobre e va detto che non per formula di stile va riconosciuto il massimo rispetto nei confronti di chi giudicherà le prove che la procura ha acquisito e quindi noi rispetteremo la decisione del giudice qualunque essa sia, potremmo non condividerla ma ovviamente la rispetteremo e l'ultima parola ovviamente è quella del giudice. Ciò premesso, noi abbiamo ritenuto di acquisire una serie di elementi tali da giustificare un processo, su cosa? Su quello che sarebbe avvenuto a cavallo di quelle terribili stragi. Il 92, abbiamo detto, viene prima ucciso un politico della democrazia cristiana del tempo, si chiamava l'onorevole Salvo Lima, che ormai, ci sono tantissime sentenze che lo dicono, è riconosciuto che era l'uomo politico che teneva prevalentemente in quel periodo i rapporti con la mafia, era il simbolo del patto mafia-politica. Improvvisamente nel 92, qualche mese dopo una sentenza della Cassazione, che era la sentenza della Cassazione che rese definitiva le condanne del maxifrocesso di Falcone e Borsellino, i mafiosi si ribellano nei confronti della politica che li aveva coperti fino a quel momento, si rendono conto che quelle coperture non servivano più perché erano stati condannati, Falcone e Borsellino, per dirla nel modo semplice come la capirono i mafiosi, avevano vinto e i politici che li dovevano proteggere avevano perso e allora hanno questa reazione e uccidono quello che rappresentava il simbolo degli accordi con la politica. Onorevole Salvo Lima. Questo omicidio determina subito e semina subito il panico nel mondo politico, soprattutto da parte dei politici che temono di poter essere le vittime successive degli altri omicidi e in effetti poi alcuni pentiti hanno raccontato che dopo Lima dovevano essere uccisi tanti altri uomini politici. Non mi pare il caso che faccio i nomi, alcuni di questi sono imputati in questo processo. A questo punto che succede? Che qualcuno, secondo l'impostazione dell'accusa, qualcuno della politica, da parte della politica che si sente nel mirino della mafia cerca di capire se è davvero in pericolo e cerca di strumentalizzare i suoi poteri che ha come uomo delle istituzioni per sapere dalla mafia se davvero lui verrà ucciso e se si può evitare questo scontro aperto con la mafia. Se è possibile stipulare un nuovo patto con la mafia, una tregua, una tregua concordata. Cosa vuole la mafia? Perché uccide? E la mafia continua, non si ferma lì, qualche mese dopo uccide Falcone e questo naturalmente semina ancora di più il panico dentro lo Stato, soprattutto dentro il mondo della politica perché invece la magistratura continua per la sua strada. Borsellino che è il nostro, vissuto in prima persona, che è il nostro punto di riferimento, la nostra punta di diamante va avanti con intransigenza contro la mafia, chiede leggi sempre più forti e alcune vengono approvate perché c'è l'opinione pubblica che spinge, ma intanto dietro le quinte altri si muovono in altro modo, altri cercano di prendere contatti con il mondo della mafia e vengono presi contatti in particolare con Vito Cencimino, mafioso, ex sindaco di Palermo, l'uomo che meglio poteva costituire l'interfaccia fra la politica e la mafia lo era stato per aprire un dialogo, per far sapere alla mafia che c'è una parte dello Stato che è disposto a trattare, a chiedere alla mafia di cosa ha bisogno per smettere di uccidere in cambio di eventuali compromessi da parte dello Stato. Per farla breve, lo dicono diversi pentiti, questa notizia, questa ambasciata arriva al capo dei capi di quel tempo, Totorrina, e Totorrina prepara un elenco di richieste, il cosiddetto Papello, Papello è un sicilianismo italianizzato, il Papello sarebbe l'elenco, come voi sapete il Papello, un elenco di lunghe richieste che la mafia fa allo Stato. E qui ci sono richieste accoglibili, richieste non accoglibili, insomma si sviluppa un colloquio a distanza, non c'è mai stato un vero e proprio tavolino attorno al quale sono seduti i capi mafia da una parte e i capi dello Stato dall'altro, ma si sviluppa questo dialogo a distanza, dialogo a distanza che secondo l'impostazione dell'accusa giunge a qualche accordo, un accordo diciamo sulla parola, un accordo sulla parola che secondo la nostra ricostruzione è un accordo che determina la rinuncia da parte della mafia in questa fase a uccidere gli uomini politici che erano predestinati all'omicidio. Ma c'è anche un dibattito dentro la mafia, c'è chi è disponibile, chi non lo è per rinunciare, insomma per farla breve in parte funziona questo accordo, in parte non funziona perché la mafia e alcuni mafiosi decidono di andare avanti, ci sono altri omicidi, verrà ucciso Borsellino, la procura di Caltanissetta ritiene che Borsellino venne ucciso perché era ritenuto un ostacolo per la trattativa e poi nel 1993 continuano le altre bombe, cambia però la strategia perché la mafia decide di non colpire più in Sicilia, si mettono le bombe, viene fatto un attentato a Maurizio Costanzo, il famoso conduttore televisivo nel maggio 1993 a Palermo che per puro caso Costanzo riesce a salvarsi e poi vengono messe delle bombe a Firenze vicino al museo degli uffizi, rimangono delle persone innocenti tra cui dei giovani, degli studenti, vittima, muoiono, poi ci sono delle altre bombe messe a Roma, a Milano, in tutto questo sullo sfondo intanto c'è qualcuno che sta ancora trattando e improvvisamente un qualche risultato della trattativa sembra ottenersi perché viene allentato nel 1993 il 41 bis, il regime carcerario duro, alcuni mafiosi vengono risparmiati dalla prologa con ragioni apparentemente immotivate nonostante il parere contrario, fortemente contrario della procura di Palermo, io c'ero e comunque abbiamo acquisito i documenti che dimostrano come la procura venne interpellata, diede il parere negativo e c'è nonostante dal Ministero della Giustizia si andò avanti non prorogando quel 41 bis e questa trattativa a distanza proseguì fino a quando nel 94 secondo l'accusa si sarebbero realizzati degli accordi anche diciamo così di tipo politico, un nuovo patto politico diciamo di protezione alla mafia. Insomma per farla breve questa è l'indagine, il processo che inizierà il 29 ottobre ci sono imputati dei mafiosi perché è previsto dalla legge italiana, dalla legge penale italiana la cosiddetta minaccia nei confronti dello Stato per dirla in breve e di questo sono imputati i mafiosi di avere minacciato lo Stato perché lo Stato accogliesse le richieste fatte dalla mafia e nella nostra ricostruzione tutti gli uomini dello Stato, ci sono uomini degli apparati investigativi, ci sono uomini politici tra gli imputati, tutti gli uomini dello Stato degli apparati investigativi e uomini politici che hanno aiutato la mafia a portare a buon fine la minaccia e hanno agevolato la mafia nel fare arrivare il papello diciamo così a destinazione sono imputati di concorso nel reato della minaccia della mafia. Poi ci sono i destinatari diciamo così il governo, i ministri che non possono rispondere di questo reato perché sono in qualche modo le vittime della minaccia. Secondo però l'impostazione della procura questi ministri anche se sono vittime della minaccia hanno l'obbligo di raccontare davanti all'autorità giudiziaria le cose come sono andate e se hanno dichiarato il falso devono rispondere dei reati conseguenti. Falsa testimonianza se lo hanno detto in pubblica udienza in un processo o false dichiarazioni al pubblico ministero se lo hanno detto al pubblico ministero. Questo diciamo in breve è il quadro, processo difficile, complicato, per la prima volta un processo peraltro, anche questo è una complicazione ulteriore, motivo di tensione, per la prima volta la procura di Palermo ha chiesto un rinvio di giudizio in cui in uno stesso processo sono imputati i capi della mafia del tempo, alcuni uomini politici ai vertici delle istituzioni del tempo, alcuni investigatori di grande importanza e notorietà a quel tempo, ci sono tanti protagonisti della nostra storia imputati insieme in quello stesso processo e questo mi rendo conto ha determinato una grande e straordinaria attenzione e una grande straordinaria attenzione. Le chiedo adesso, faccio una domanda, una risposta veramente... Sulla quale il mio appello a tutti è, seguite questo processo, il mio appello ai giornalisti, al mondo dell'informazione, cercate di essere appunto il più fedeli, aderenti a quello che succede, perché inevitabilmente ci saranno tensioni, un processo di parti, il pubblico ministero da una parte, lo dico proprio cercando di astrarmi il più possibile, il pubblico ministero da una parte e gli imputati difensori dall'altro daranno inevitabilmente una loro lettura e interpretazione anche di quello che accade dentro l'aula giudiziaria, cercate di superare per quanto possibile l'inevitabile parzialità delle visioni di ciascuno. Ci proveremo, adesso veramente una risposta con un sì o un no e poi sforiamo di dieci minuti non di più, facciamo fare qualche domanda ai ragazzi, dieci minuti è una promessa. Lo Stato oggi è pronto, secondo lei, veramente con un sì o con un no, a raggiungere, a cercare la verità di quella stagione. Io credo di sì, io credo che ci siano i presupposti perché si possa sapere la verità e lo dico per due ragioni. Da un lato abbiamo una magistratura che bene o male ha portato avanti un'indagine e sta portando un processo e ci sono dei giudici che serenamente potranno valutare queste prove e concluderanno con una sentenza che sarà la verità giudiziaria. Ma non c'è solo questo, c'è anche una commissione parlamentare antimafia che finalmente, dopo vent'anni di commissioni parlamentari che si sono avvicendate senza avere mai il coraggio politico, perché poi è questione non di coraggio personale ma di coraggio politico, di affrontare un tema così difficile e incandescente, c'è questa commissione parlamentare antimafia che lo sta facendo, sappiamo, abbiamo letto in discrezione dei giornali che è imminente il deposito di una relazione, non si è capito se una sola relazione unitaria, ci sarà una relazione di maggioranza o di minoranza, ma in ogni caso significa che una qualche verità storica politica si prepara ad essere consegnata agli italiani, ci sono una miriade di pubblicazioni di giornalisti storici che stanno raccontando questa storia all'opinione pubblica, so addirittura che ci sono artisti e scrittori che stanno lavorando a film e fiction televisive su questo tema, quindi questa storia, che è una storia grondante sangue, che è la storia delle stragi e della trattativa sulle quali in qualche modo è stato un po' da sfondo della nascita della seconda repubblica, siamo, dicono tutti gli osservatori politici, agli sgoccio della seconda repubblica, sta per iniziare la terza, finalmente, come dire, non è mai troppo tardi, sembra che il Paese si sia risvegliato e si stia appassionando alla sua storia, con tutte le polemiche, tutti gli scontri, anche diranianti, che però possono essere benefici se non creano solo polverone e confusione. C'è una parte del Paese che questa verità non la voleva vent'anni fa, che non la vuole ancora oggi, mi meraviglierei del contrario se improvvisamente tutti volessero la verità, perché è chiaro che c'è chi è, non può chi avere paura di questa verità, però quello che mi incoraggia è che vedo che si sta maturando una coscienza nel Paese sempre più forte, che questa verità la vuole, su questo dobbiamo contare, questa coscienza civile del Paese va stimolata e supportata. Andiamo con le domande, velocemente, dieci minuti di domande erano di più, non so se c'è già qualcuno pronto. Diciamo dieci minuti fra domande e risposte. Assolutamente, altrimenti diventerebbero molti di più. Chi è che mi indica se c'è qualcuno... Ah, ecco qua. Se puoi anche dire, insomma, il tuo nome, cognome e la scuola di appartenenza. Allora, Alessandro Vetrano, provengo dall'Istituto Ferrara. Volevo chiedere cosa si prova dal processato, un uomo che ha commissionato l'uccisione di due grandi eroi palermitani che hanno lottato per il futuro nostro, dei nostri figli. Cosa si prova quando si ha dinanzi a un uomo che ha fatto del male a noi? È appunto questo. Beh, che si prova. Ovviamente mi è capitato di interrogarli tutti, diciamo, i grossi capi mafia. Naturalmente si crea una situazione di emozione, di tensione. Avere davanti gli assassini, dei tuoi amici, dei tuoi maestri. Però deve prevalere sempre la professionalità del ruolo che svolgiamo. Io non vado per guardare, per vedere, per osservare un imputato, vado per interrogarlo, faccio le domande che devo, trago le conclusioni, poi lo indago, lo processo e chiedo la condanna. Questo è il mio dovere e questo devo fare senza lasciarmi condizionare dai sentimenti che sono umani, che ovviamente non posso che provare, ma sono innanzitutto in quella sede un magistrato e non sono e non devo essere l'amico o l'allievo del collega che è stato ucciso dall'assassino che ho davanti. Forza con l'altra domanda. E' Antonio Ugo. A volte lei non è stanco di fare questa scelta di vita? Gran bella domanda questa. Beh, un po' sì, lo riconosco. Diciamo, momenti di stanchezza li ho avvertiti. La cosiddetta vita blindata a dei costi, ma non tanto per le preoccupazioni che una vita blindata può dare, ma per le limitazioni in quel poco di vita privata che ci resta. Sarà anche per questo che ultimamente le mie ferie sono, come sanno i poliziotte della mia scorta, sono state molto ridotte. Quest'anno ho fatto sì e no 5-6 giorni di ferie. Forse, diciamo, l'entusiasmo con il quale ho accettato l'incarico di andare in Guatemala nasce anche dalla necessità, diciamo, personale di fare una piccola parentesi. Non è che, per carità, in Guatemala vado né nella civile Finlandia e neppure a Parigi a fare una vacanza. Il Guatemala è un paese difficile, con una percentuale pari quasi al 90% di impunità dei delitti che sono commessi, con una criminalità di tipo mafioso estremamente violenta. Farò vita blindata anche lì, anzi probabilmente sarà una vita blindata ancora più rigorosa di quanto non lo faccio in Italia, però quantomeno è un'altra latitudine e cambierò aria e clima per un po'. Mi servirà, credo, per tornare ancora più ritemprato. Anche se, come dico sempre, ovviamente non farò mancare la mia voce, la mia presenza, guarderò sempre con attenzione l'Italia e la Sicilia e siccome sono anche collega di Loverso perché è scritto all'albo dei pubblicisti, dell'ordine dei giornalisti, continuerò a scrivere, anzi un po' più liberamente, potrò scrivere commenti e quello che penso che nel frattempo accadrà in Italia. Mattia Intor, liceo scientifico Galileo Galilei. Mi scusi, come mai le intercettazioni di Napoletano non sono state ancora pubblicate dai giornali? Ma soprattutto pensa che questo abbia qualcosa a che fare con la sua promozione in Guatemala? Io pensavo che fosse un argomento troppo tecnico per affrontarlo, invece, insomma, mi hanno smentito. Allora, le intercettazioni non sono state pubblicate per la semplice ragione che nonostante tutte le maldicenze contro la Procura di Palermo, che sarebbe l'ufficio con l'abbrodo che fa uscire tutte le notizie riservate e segrete, questo dimostra che quando si vuole le indagini non esce una riga, noi abbiamo imposto un tale segreto al contenuto di questa intercettazione che fino ad oggi non è uscita una riga, anche se un settimanale ha scritto falsamente di avere le telefonate, di pubblicare il contenuto di queste telefonate e quindi non sono state pubblicate per la semplice ragione che non sono pubblicabili e se non sono pubblicabili non devono essere pubblicate e non sono state pubblicate. Il Guatemala, non c'entra niente con questa vicenda, io da questa cosa, questo incarico in Guatemala è un po' il frutto di un lavoro che faccio da tanti anni, da almeno cinque anni ho una certa frequenza e frequentazione con il Messico, con l'America centrale, con l'America del Sud, perché quello è diventato l'epicentro di alcune strategie criminali ed io ritengo importante dedicarsi anche a questo aspetto delle mafie internazionali. La proposta di incarico mi è stata fatta addirittura alla fine dell'anno passato, alla fine del 2011, perché l'incarico che andrò a coprire si liberava nel febbraio del 2012, del febbraio scorso, e ancora non era scoppiata nessuna polemica, l'indagine ancora non si era chiusa sulla trattativa, non c'era stata la polemica sull'intercettazione e così via. Avevo già detto, avevo dato già un sì di massima, poi proprio perché sono scoppiate queste polemiche ho ritenuto mio dovere non lasciare il campo immediatamente e quindi ho chiesto una serie di prologhe consecutive all'ONU, l'Italia non ne sapeva niente, non è venuta dall'Italia la proposta, la proposta è venuta dagli Stati Uniti, insomma non credo che ci sia questo aspetto internazionale che vuole portare via in gloria dall'Italia, non solo per così tanto importante, perché ovviamente le indagini proseguiranno, proseguiranno nelle mani di tanti altri colleghi e comunque, come ripeto, non è un addio, è un arrivederci e io credo che i dieci minuti sono passati e forse devo dire arrivederci perché devo andare in ufficio, mi aspettano. Grazie, scusate se vado via prima. Ringraziamo Antonio Ingroia, dunque riassumendo e concludendo i tre punti, la mafia non è più quella di una volta ma resta comunque forte, la politica deve fare tanto per diventare più decorosa, lo Stato può essere pronto a raggiungere la verità di quello scellerato patto, quella scellerata trattativa che c'è stata con i pezzi e la mafia, resta insomma i media. E dico che se la stragrande maggioranza di questi ragazzi oggi la riconosce grazie alla tv e sa i temi, conosce i temi della mafia anche grazie alla tv, allora forse la sua presenza nelle trasmissioni televisive non è poi così sbagliata. Beh, io sono convinto e rivendico che la presenza dei magistrati che spieghino, che dialogano con l'opinione pubblica sia fondamentale e però io dico sempre, lo dico ai miei colleghi alcuni magistrati che sono stati anche magistrati critici nei miei confronti, la sovraesposizione mediatica del dottore Ingroia non è colpa del dottore Ingroia ma è colpa degli altri magistrati che non si espongono abbastanza, esponetevi di più e raccontate di più la vostra posizione. La grazie ad Antonio Ingroia. Grazie. Grazie.